ciao ragazzi video di recensione dell'orologio che riceve tutti i dati del descom g5 andiamo a vedere il descom g5 indica 102 andiamo a vedere l'orologio facciamo il movimento del polso dell'orologio vediamo che ci fa vedere che siamo 102 con tutto il grafico guardate tutti quanti i pallini che ci sono sopra questo orologio quindi riproducono in tutto e per tutto il grafico del del cellulare eccolo qua queste modalità schermo sempre acceso se tocchiamo lo vediamo lo vediamo anche a colori va bene allora andiamo a vedere che cosa ho fatto io praticamente ho disattivato come vedete qua la modalità dati che vuol dire vuol dire che praticamente sta trasmettendo anche se non sto usando internet quindi a differenza del peble adesso vediamo vediamo il peble ok questo è il mio peble quello che uso io con lo schermo che uso io ok che indica 104 vedete è la stessa ecco mai è avanti a noi indietro indietro perché ho disattivato la modalità dati adesso riattivo la modalità dati ok riattivo la modalità dati il peble vedeva solo fino a che fino a che c'era la connessione dati una volta è tolta la connessione dati il peble non non riceve più gli aggiornamenti invece questo qua si attacca direttamente questo si attacca vedete prima un puntino prima era 104 poi ha fatto l'esperimento di togliere la connessione dati e questo invece ha continuato a ricevere anche con la connessione dati disattivata quindi questo andrà sul polso di alessandro in effetti questo si abbina solamente all'app si abbina solamente a quest'app qua a descom g5 invece non si abbina a descom share io ad esempio ce l'ho un altro di di sony che perché li avevo presi per quando non si utilizzava questo mezzo qua ma adesso adesso praticamente è superato perché è molto più pratico c'è molto più autonomia il blue con allora ho fatto riformattare in modo da ritornare nuovo senza la la modifica a vedere che possiamo fare anche il cambio quadrante che mettiamo qua mettiamo il cambio quadrante potremmo mettere il quadrante del glimp però ieri funzionava ieri faceva vedere faceva vedere volendo anche il glimp adesso appare la scritta cgm esiste però la possibilità di vedere con glimp e su questo orologio e anche con con altre applicazioni sempre con nice scout è possibile utilizzare sempre questo orologio qua però questo è proprio di serie è proprio un'applicazione senza fare tante modifiche senza fare niente è proprio di serie si vede bene andate che carina e questo andrà sul polso di alessandro non mi è capitato che mi è andato sotto i limiti e quindi non i limiti non so neanche se si possono 70 200 non so neanche come poterli impostare vediamo un po se io premo se da qualche parte non so come fa forse sul forse sul telefono per impostare i limiti per cambiare limiti forse al raggiungimento dei limiti vibra vediamo un po allora questa qua me la fa modificare c'è una rotellina non c'è niente vabbè se qualcuno sa come fare a modificare i limiti che sono 70 200 per farli modificare in modo differente me lo dicesse nei commenti va bene intanto ho fatto vedere come sony smartwatch 3 vedete regolato piccolo piccolo per per il polso di alessandro questo sarà il suo orologio anche lui c'è un pebble vedete questo si è riaggiornato a 102 ok si è riaggiornato perché ho riattivato la connessione dati alessandro anche a un pebble che però è meno bello però c'è molta più autonomia questo tende a scaricarsi molto più velocemente il pebble dura diversi giorni si vede bene anche quando è schermo spento vedi come si si vede bene con lo schermo spento poi tocchi e voglio dico lo schermo acceso si vede meglio però però con lo schermo spento si vede benissimo in qualsiasi condizione questo si vede pochino e poi in ogni caso così consuma tanta batteria quindi quindi c'è una certa differenza però è molto più carino insomma per lo meno il quadrante a colori così fa un po più effetto vabbè ciao ragazzi ciao ciao